L'animazione illustra quello che mille Volvo stanno sperimentando sulle strade svedesi e norvegesi. Si tratta di un sistema di automobili connesse tra loro, tramite rete pubblica o privata. Secondo Volvo Cars, una vettura che incontrasse un problema di sicurezza sul proprio percorso, tramite questa interconnessione potrebbe comunicare alle auto che stanno percorrendo lo stesso tratto di strada, informazioni atte ad avviare sistemi che aiutino il guidatore. Ad esempio, come l'animazione ci sta mostrando, si potrebbe evitare un possibile sbandamento per il fondo scivoloso. Forse in una smart city, la città intelligente del prossimo futuro, questo sarà possibile.